buon martedì a tutti buongiorno benvenuti alla rassegna stampa occhio ai giornali come sempre su fano tv canale 17 c'è l'appuntamento con l'informazione con la lettura dei giornali la selezione dei giornali che abbiamo fatto anche questa mattina per voi cominciamo però prima al santo poi il tempo c'è un cambiamento nel tempo nelle prossime ore vediamo il santo di oggi prima però san felice da cantalice il sole è sorto alle 5 e 40 e tramonterà le 20 e 34 un transito di aria fredda in quota porterà un peggioramento nelle prossime ore intanto per la giornata di oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso ma il peggioramento eccolo qua arriva mercoledì con piogge rovescio temporali sparsi nella prima parte della giornata con fenomeni assenti nel pomeriggio giovedì 20 il tempo continua ad essere perturbato con locali rovescio temporali soprattutto nel settore meridionale poi il tempo torna di nuovo buono allora il coprifuoco coprifuoco alle ore contate perché da domani già insomma questo coprifuoco alle ore 22 verrà posticipato alle 23 titolo del Corriere Adriatico di oggi edizione pesarese il coprifuoco alle ore contate nuovo decreto del governo da domani scatterà le 23 dal 7 giugno poi invece a mezzanotte e dal 21 giugno invece sparirà completamente quindi a tappe a meno che non ci saranno delle anticipazioni ma comunque per il momento ecco da domani scatta le 23 poi dal 7 di giugno a mezzanotte dal 21 sparirà sport e turismo ritorno di fiamma nel fine settimana la baia di pesaro invasa dagli atleti e a di taglio basso cordoglio per guccione aveva cambiato il welfare l'ex assessore fanese se ne è andato a 65 anni il calino di pesaro la rabbia in pista e la fotonotizia di oggi con la protesta della categoria di quelli che gestiscono le discoteche siamo sempre gli ultimi a riaprire e poi e poi precipita da un terrazzo mentre svolge dei controlli in un palazzo ferito ex consigliere stiamo parlando di renzo savelli e poi addio fabio guccioni era il volto della solidarietà allora le nuove regole coprifuoco è ritirata si riparte il governo ridisegna la mappa verso la quasi libertà riaperture anticipate per palestre e cene nei ristoranti ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia allora intanto l'attuale situazione dei contagi consente una riduzione progressiva del coprifuoco che già da domani inizierà non più dalle ore 22 ma dalle 23 per cessare alle 5 del mattino poi dal 7 giugno secondo il cronoprogramma si potrà uscire di casa fino a mezzanotte per poi eliminare del tutto il coprifuoco a partire dal 21 giugno se ovviamente il calo dei contagi continuerà seguendo l'attuale trend a ribasso poi per quanto riguarda i negozi aperti nel fine settimana tutti i negozi dei centri commerciali saranno aperti anche il sabato e la domenica e questo a partire dal prossimo fine settimana bar e ristoranti clienti anche al chiuso la riapertura dei ristoranti al chiuso anche la sera sempre a partire però dal primo di giugno da quella data sarà possibile anche consumare un caffè al balcone bancone 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 non al balcone balcone al terra vabbè banchetti di nozze con il green pass dal 15 giugno si potranno organizzare anche di nuovo i banchetti di nozze ma il numero degli invitati per le feste all'aperto e al chiuso dovrà essere stabilito dal comitato tecnico scientifico quindi ancora non è dato a sapere inoltre tutti gli invitati dovranno essere muniti di green pass il fitness torna anche al chiuso senza però fare la doccia queste sono tutte cose che poi qualcuno un giorno ci spiegherà ma comunque le palestre riapriranno al chiuso dal lunedì 24 maggio in anticipo dunque sul cronoprogramma perché si diceva che le palestre avrebbero riaperto solo dal primo di giugno invece una settimana prima si potranno utilizzare gli spogliatoi ma sarà ancora vietato fare la doccia dal primo luglio invece riapriranno le piscine anche al chiuso e i centri benessere e termali gli impianti di sci invece riapriranno il 22 di maggio sabato prossimo una beffa per una regione con come le marche che non ha piste ad altissima quota niente ordinanze però domani le marche tutte in zona gialla acquaroli non proroga l'arancione in due comuni due comuni sono quelli di acqualagna e petriano vaccini annullata la consegna delle osi moderna quasi 9.000 dosi che dovevano arrivare che però non si sa dove sono finite intanto la prima frenata meno 22 per cento di casi in una settimana è l'effetto dei vaccini che neutralizza quello delle riaperture di scuole e attività le province di peso urbino e ascoli però frenano la discesa verso la zona bianca si va verso la zona bianca ma ripetiamo ancora una volta ancora oggi che peso urbino così come la provincia di ascoli ancora non sta andando come dovrebbe andare è tutto un po rilento intanto i ricoveri per covid in terapia intensiva sono scesi al 23 per cento del totale per quanto riguarda i parametri invece addio all'indice rt quello che insomma l'indice di contagio infatti conteranno i ricoveri e l'incidenza dei casi acqualagna e petriano vedono di nuovo giallo titolo sempre pagina 13 del corriere di oggi sospiro di sollievo per la decisione della regione legata al calo dei contagi il sindaco lisi dice guai ad abbassare la guardia un risultato grazie soprattutto ai cittadini intanto l'area vasta è fiduciosa un mese per vaccinare la fascia degli over 50 fino a metà giugno a disposizione 28 mila posti per somministrare le dosi però ancora così come sta avvenendo in questi giorni si stanno soprattutto vaccinando quelli che devono fare il richiamo e quindi l'apertura diciamo coloro coloro che possono vaccinarsi a quest'età a pesaro soprattutto ci vorrà ancora qualche giorno intanto i vaccini agli over 50 sono però stati fatti negli hub di fano e di urbino 140 vaccinati cinquantenni in quella fascia lì insomma a fano e una centinaio un centinaio a urbino ma anche all'ospedale di muraglia un centinaio circa insomma si va avanti ma ecco anche qui in questo caso tutto dipende dalle forniture abbiamo visto moderna questo vaccino che doveva arrivare dovevano arrivare 9 mila dosi invece è rimaste sono rimaste va sapere dove ma nei prossimi giorni arriveranno arriverà un bel carico di pfizer la pagina di fano pagina dolorosa soprattutto per chi ha conosciuto fabio guccioni è morto l'ex assessore guccione titolo del corriere di oggi il politico coraggioso del welfare aveva 65 anni una grave malattia lo ha fulminato in sei mesi domani l'addio a sant'orso scrive un ricordo massimo foghetti la sua salute per quanto riguarda la mattia la sua salute aveva incominciato a vacillare negli ultimi mesi del 2020 quando i sanitari gli avevano comunicato che avrebbe dovuto operarsi alla prostata poi è subentrata una difficoltà di respirazione nel mese di dicembre la scoperta di un tumore al polmone considerato inoperabile da allora è seguito il calvario delle sedute di chemioterapia che però purtroppo si sono rivelati inefficaci quindi una polmonite praticamente l'ha portato via 65 anni e fabio guccioni perché l'ha conosciuto insomma davvero un vulcano di idee che aveva sempre qualche cosa da proporti insomma me lo ricordo spessissimo anche quando veniva qui a fano tv a trovarmi per dire Marco facciamo questo in mente adesso questo quest'altro e lo ascoltavo sempre con molto piacere con molto interesse perché aveva appunto sempre queste idee che non tutte erano poi realizzabili ma insomma aveva una visione della vita certamente bella soprattutto di comunità ha aiutato tanti questo va detto ha aiutato tanto ha amato come giustamente scrive Massimo Fughetti questa mattina ha amato gli anziani le persone disabili è stato l'ispiratore di Itaca della Don Tonucci a lui si deve la realizzazione della BCC Arena ha diffuso il microcredito per le persone in difficoltà e i libretti delle solidarietà tant'è che quando usciva da qui tutte le volte diceva sarà che ce la farà a farla questa cosa e poi ce la faceva quindi questo è il bello di Fabio Guccione che riusciva poi a realizzarlo perché piano piano con pazienza come le formichine riusciva a mettere a punto tutti i tasselli e con la sua capabilità e determinazione riusciva a portare a termine appunto questi suoi progetti insomma questo era l'assessore Guccione l'ex assessore Guccione e lo ricordano in tanti tantissimi tra cui anche l'amico Luciano Radici che dice era di una generosità indescrivibile i suoi funerali l'ultimo saluto si svolgerà domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso chiaramente lo ricorda anche il resto del Carlino la pagina di Fano il titolo la città ha perso il suo cuore solidale politico e cittadino sempre a servizio del bene comune domani l'addio appunto come abbiamo detto alle ore 16 nella chiesa di Sant'Orso lascia la moglie Rossella e la figlia Gaia andiamo adesso invece sull'altra pagina dei giornali sulle altre pagine dei giornali allora la cronaca testata il controllore del bus denunciato un trentenne ganese ha reagito violentemente alla richiesta del biglietto la polizia lo blocca mentre il malcapitato va in ospedale il fatto risale all'altro ieri in piazzale Falcone Borsellino praticamente al capolinea della stazione di Pesero va all'esame di guida come uno 007 il kit dello spione lo fa condannare questa era una notizia che già nel maggio del 2019 avevamo commentato quando era uscita sui giornali esattamente due anni fa gli agenti della polizia stradale avevano denunciato questo trentaduenne residente nel Pesarese un marocchino che adesso è accusato di falso e niente era andato praticamente all'esame di guida con tutto l'armamentario qualcuno aveva cominciato a insospettirsi perché aveva una gobetta un po' innaturale è stato perquisito è venuto fuori questo marchigegno che serviva per trasmettere e ricevere informazioni dall'esterno in un bar lì vicino alla motorizzazione civile c'erano c'erano dei complici che avevano organizzato tutto quanto aveva pagato 3500 euro però di cui 2250 subito in contante il giorno dell'esame poi gli altri evidentemente gli avrebbe dati al conseguimento della patente che però in quel caso non c'è stata il tir invece sempre dal Corriere Adriatico questa fotografia così spettacolare che si ribalta su strada Montefeltro all'altezza del rondò del lobby è rimasto coinvolto questo autotrasportatore all'interno c'era un cinquantenne la guida c'era un cinquantenne che però è rimasto illeso evidentemente il carico si è sbilanciato e lui questo questo camion si è adagiato quindi anche il conducente insomma ha avuto tempo per mettere le mani ai piedi nei posti giusti e non farsi male intanto sempre a Pesaro al Mirra il Fiore è stato preso un esibizionista di 55 anni un algerino pensionato residente a Pesaro che è stato bloccato dai carabinieri chiamati da qualche donna che si è trovata di fronte quest'uomo che a un certo punto insomma si masturbava il passaggio di queste donne l'uomo una volta poi eseguito il suo show andava a nascondersi in attesa della prossima spettatrice è stato portato in caserma per essere identificato non ha saputo spiegare il motivo di questa sua esibizione se non per il fatto di essere estremamente depresso l'uomo è stato denunciato a piede libero per le varie oscenità che aveva messo in mostra e poi invece c'è questo racconto a pagina 17 del Corriere Adriatico di un altro episodio di cronaca un ex che a un certo punto blocca dentro l'ascensore la sua ex moglie la impedisce di uscire all'esterno insomma di uscire le sferra un pugno in faccia l'uomo è stato processato è stato condannato ed è uno degli ultimi di una serie di episodi relativi a maltrattamenti è la storia praticamente burrascosa di una coppia peruviana pesarese già balzata alle cronache lui 45 anni, lei ormai ex, 35enne che si ritrovano appunto dentro l'ascensore lui non solo le avrebbe impedito di uscire ma l'avrebbe colpita appunto con un pugno al volto che le hanno causato lesioni allo zigomo giudicate guaribili in sette giorni poi c'è una conferma, la conferma che i resti archeologici affiorati a Muraglia in via Lombroso sono tombe romane, i reperti archeologici e i resti antichi affiorati non riguardano la sede dove passerà la complanare ma la realizzazione della bretella renderà necessario per il tracciato lo spostamento dell'acquedotto che attualmente rifornisce Pesaro e che in alcuni tratti corre vicino all'antico acquedotto romano che scende dalle colline di Novilara è morto invece a Pesaro sempre il professor Glauco Mancini si è spento alla veneranda età di 100 anni e 9 giorni per l'esattezza come ricorda Roberto Damiani nel suo articolo commemorativo l'8 maggio aveva festeggiato il secolo di vita alzando le dita col segno della vittoria davanti all'obiettivo del fotografo e per tutti era il prof e quando si dice per tutti non è un modo di dire perché in 50 anni di insegnamento tra pubblico e privato e tra Pesaro e Fano è stato il prof d'inglese dal 1947 in poi e ne ha davvero incontrati di giovani tra le curiosità che ricorda il giornale questa mattina ce n'è una guidava la sua vecchia Citroen C4 con i sedili ancora coperti dal velo di plastica per conservarli meglio ha lottato per la patente riuscendo a tenerla fino a 99 anni i funerali si svolgeranno domani mercoledì alle 15.30 nella chiesa dei Cappuccini mentre stasera alle 18 ci sarà il Rosario è andata bene invece a un ex consigliere del comune di Fossombrone Renzo Savelli storico autore di svariati libri e di saggi anche sulla città di Fossombrone Renzo Savelli che si trovava insieme ad un geometra in un palazzo stava insieme a Paolo Picchi il geometra che appunto era impegnato ieri mattina nel celebre palazzo del Cinquecento che si trova a lungo corso angolo via Giganti Savelli che è un appassionato storico della città ha scritto come dicevo molti libri a un certo punto era intorno a mezzogiorno si trovavano su un terrazzino che si affaccia sulla corte interna e all'improvviso la struttura ha ceduto trascinando con sé Picchi e Savelli in un volo di almeno 6 metri insomma è andata bene insomma è andata bene per Savelli un po' meno per il geometra che comunque è stato portato con qualche costo la rotta da quello che mi hanno detto insomma all'ospedale di Torrette di Ancona questo è il luogo, il palazzo dove praticamente è successo tra l'altro il nome di questo palazzo insomma Bramasangue tanto per dire Pedinava una minorenne è stato denunciato un uomo, un muratore siamo sulla pagina di Fano del Carlino lui 29 anni inviava alla ragazza messaggini e regali in continuazione si è anche presentato ai genitori per il fidanzamento diceva di essersi innamorato di lei si è pure presentato appunto per avere una specie di autorizzazione a frequentarla come succedeva nei secoli scorsi la giovane 17enne mentre lui muratore ha toccato i 29 entrambi di Fano però non ne voleva proprio sapere di questo tipo dicendogli più volte di stare alla larga tutto il racconto lo troverete poi sul giornale di oggi poi ancora processi ancora resoconti dal Tribunale di Pesero vacanze a scrocco per una persona che a un certo punto si è fatto tre giorni qua nell'entroterra fanese qui nelle prime colline siamo per andare insomma a Montegiove Villa Rinalducci un 46enne che nell'agosto del 2019 non aveva pagato un conto da 1580 euro per questo è stato condannato aveva preso questa camera deluxe pensione completa comfort vari tre giorni praticamente da nababbo senza però pagare nulla quindi senza badare a spese per lui la moglie e i figli nella splendida dimora di Villa Rinalducci a Rosciano di Fano un soggiorno appunto da quasi 1600 euro ma non mai pagate questi soldi l'ospite se ne sono andati senza tirare fuori un centesimo il padre però è stato denunciato dai titolari appunto della Villa siamo sempre sulla cronaca di Fano del resto del Carlino intrappolata in casa con ustioni sulle braccia la pentola le si è rovesciata addosso mentre stava cucinando caduta a terra non riusciva a rialzarsi e la porta era chiusa dall'interno sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco poi un'ambulanza fino alla Santa Croce dunque è successo in una casa di fronte alla stazione ferroviaria dove una donna di 65 anni intorno alle 20 di ieri è rimasta intrappolata dopo un infortunio domestico mentre per quanto riguarda le poste chiuse a Pergola continuano le polemiche mentre i lavori a Colli al Metauro doppio intervento giovedì sulla rete idrica a Calcinelli causerà l'interruzione dell'acqua ci sarà l'acqua a singhiozzo e sul giornale troverete le vie interessate da queste interruzioni per questo intervento il prefetto Vittorio Lapolla saluta la città di Pesero se ne va a Roma ad altro incarico al suo posto arriva Tommaso Ricciardi eccolo qua la foto del nuovo prefetto di Pesero e Urbino che appunto prenderà il posto di Vittorio Lapolla chi è il nuovo prefetto? lo vediamo subito allora eccolo qua Ricciardi nato a Caserta il 28 gennaio 1957 ha una laurea in giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli è coniugato ha tre figli e ha ricoperto il ruolo di prefetto di Trapani per due anni e questa è la notizia che il Corriere Adriatico dà oggi sulla pagina sulle pagine interne la società Madonna Ponte invece di Fano è definitivamente fallita siamo ancora sulla cronaca di Fano sulle pagine di Fano nata per il progetto immobiliare l'ex zuccherificio comprendeva i maggiori costruttori di Fano e Pesero di quell'avventura resta solo una foresta di cemento tanto per avere un'idea Medio Leasing alla fine chiedeva un rientro di 38 milioni di euro questa è la situazione che tra l'altro è sotto gli occhi di tutti nella zona una zona importante come quella dell'ex zuccherificio dove doveva venire fuori questo grande queste sono le megalomanie degli uomini i deliri di onnipotenza degli uomini questo lo lasciamo perché se no ci roviniamo la giornata sul DDL ZAN c'è poco da dire cari miei questi si stanno rovinando da soli ma lasciamo di stare l'invasione degli sportivi farà cambiare la viabilità invece questo è importante perché per la vita dei più giorni soprattutto per i pesaresi in questi giorni arriveranno tanti sportivi che nel fine settimana ovviamente invaderanno la città di Pesero e quindi dal punto di vista viario ci saranno delle variazioni che riguarderanno soprattutto l'area di Baia Flaminia mentre sulla pagina di Vallefoglia c'è una gatta da pelare o una patata bollente sul tavolo del governatore Acquaroli perché? perché dalle marche vogliono andare via ma questa non è una novità perché è un iter che è iniziato tantissimi anni fa Montecopiolo e Sassofeltro Montecopiolo e Sassofeltro vogliono passare in Romagna vogliono andare dall'altra parte fare il salto dall'altra parte ora questo distacco è calendarizzato in Senato da oggi a dopo domani e Acquaroli sta chiedendo di bloccare di fermare questo iter cioè vuole impedire a Montecopiolo e Sassofeltro di andare in Romagna anche perché da quelle parti tanti paesi sono passati ormai dall'altra parte sarebbe interessante andare da questi ex paesi marchigiani ex marchigiani per capire se sono contenti di aver fatto il salto di essere diventati romagnoli oppure si sono pentiti nessuno credo l'abbia mai fatto ma sarebbe interessante sapere com'è cambiata la vita di queste persone arrivati invece arrivano i vigilanti dell'ecologia e 26 diplomati siamo a Urbino 26 diplomati è il corso unico nel suo genere in Italia svolto in Ateneo con il professore Alberto Clini compiti di protezione civile controllo territoriale polizia amministrativa e nell'ittico anche giudiziari sono i vigilanti dell'ecologia in questi giorni c'è stato l'esame finale di questo corso corruzione a Senigallia condannato un poliziotto a 7 anni l'ex dirigente dell'anticrimine Mirko Minghelli era accusato di vendita di informazioni riservate possibile però il ricorso in appello intanto a Senigallia i contagi tornano a scendere sono 84 in città solo a Corinaldo Serra dei Conti e Ostra si registrano aumenti Barbara invece resiste come comune covid free sempre a Senigallia ma questa volta dal Corriere Adriatico la Movida ora è sorvegliata speciale più controlli assunti vigili stagionali il sindaco dice sabato ho ricevuto continuo chiamate foto per una situazione intollerabile spero non si ripeta intanto per il Giamborì che è un festival ormai famoso in tutta Italia ma per il quale servono soldi soldi veri per poterlo organizzare il comune trova altri 50 mila euro sarà chiesta una proroga agli organizzatori per dare la risposta finale si attende la scelta della regione insomma stanno facendo un po' l'acquesto in giro per cercare di raccimolare qualche soldo e poter fare questo festival almeno quest'anno intanto per quanto riguarda lo sport Fano Imolese via libera sabato si gioca davvero riprogrammate dalla Lega Pro le due partite dei play out ritorno il 29 Traini dice speriamo che non emergano altre positività dai giri di tampone sapete che insomma Fano aveva un focolaio all'interno al suo interno perché alcuni giocatori erano positivi e quindi la Lega ha dovuto posticipare queste gare di play out il Carlino scrive titola il Fano in campo sabato primo play out con Imola la Lega ha ufficializzato ieri le date dei due spareggi per la salvezza 22 e 29 maggio alle ore 17 e 30 ma in casa Granata c'è ancora chi accusa dei sintomi vedete non è finita i tamponi continueranno anche oggi in settimana sarà recuperabile solo Gentile intanto in casa vis vis e di donato verso l'addio il candidato forte è Banchini la conferma del tecnico della salvezza si allontana il profilo giusto per la panchina sembra essere quella dell'ex commo e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa allora vi ricordo alle 18 in diretta oggi dal santuario di Nostra Signora di Lourdes in Francia l'appuntamento appunto con il Rosario alle 18 e poi alle 21 guarda chi c'è con l'intervista alla direttrice artistica dello Sferisterio di Macerata Barbara Minghetti ed è tutto grazie per essere stati con noi alla 20.30 c'è Occhio alla Notizia del Telegiornale buona giornata e arrivederci